E' sempre più arroventata la battaglia politica attorno al recupero dell'ex ospedale psichiatrico San Benedetto con botta e risposta che durano da due settimane. A muovere le prime accuse il consigliere regionale Andrea Biancani che ha lamentato la retromarcia della regione da uno stanziamento di fondi di 10 milioni di euro inizialmente previsti dal PNRR sulla riqualificazione della struttura di corso 11 settembre. Poi è arrivata la secca replica dell'assessore regionale Aguzzi che di contro rinnovava un impegno della Giunta dopo decenni di immobilismo. Parole che non hanno accontentato il PD di Pesaro che guidato dai consiglieri regionali d'opposizione Biancani e Vitri hanno organizzato sabato un sit-in per ribadire che la retromarcia c'è stata e hanno incalzato la regione ad accedere ai fondi PNRR entro il 28 febbraio. Accuse di immobilismo questa volta rispettite al mittente dal consigliere peserese di Fratelli d'Italia Nicola Baiocchi. Oltre 30 anni di completo immobilismo in attività e negligenza da parte delle mestiere della sinistra e del PD di Pesaro e del PD regionale. Adesso dopo pochissimo tempo siamo riusciti a sbloccare un progetto importantissimo per la nostra città un accordo tra Comune di Pesaro, ASUR che mi ricordo è il proprietario dell'immobile e la regione Marche e addirittura adesso ci vediamo anche incolpare di non essere attivi nei lavori di rifacimento. È una cosa totalmente senza senso e dovrebbero protestare solamente contro loro stessi perché tutta colpa di questo immobilismo di questi 30 anni è solamente la colpa loro. Andiamo avanti e cerchiamo di non entrare in un meccanismo veramente contro Antipesaro perché questa cosa è il classico esempio dove la politica prende sopravvento e non viene assolutamente presa in considerazione la buona fede e l'interesse della città.